Occhio giornali, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa e commento la stampa del giorno su Fano TV, canale 17, oggi è lunedì, lunedì 29 marzo 2021, abbiamo cambiato l'orario, si inizia la settimana le giornate perché si alza al mattino presto, adesso sono tornate di nuovo buie, ma piano piano tornerà il sole, intanto si sono allungate le giornate, aumentano le temperature, vedremo tra poco addirittura arriveremo a 20-25 gradi, insomma una estate in anticipo, ma vediamo il santo di oggi, la chiesa cattolica ricorda oggi il beato Bertoldo, il sole è sorto alle 6.56 pochi minuti fa e tramonterà come vedete tardi alle 19.35 Andiamo a vedere il sito di trebimeteo.com, da oggi avremo quindi questo anticiclone africano con picchi termici come a maggio e giugno, a Pasqua, Pasquetta, però cambia tutto e probabilmente avremo il maltempo, sarà una Pasqua con la pioggia, ma di questo vedremo e parleremo più avanti, intanto la mattinata nella nostra regione, come vedete dalla grafica, si presenterà in questo modo con miglioramento, qualche foschia insomma durante la giornata, ma per il resto ecco direi che tutto scivolerà via nel migliore dei modi. Adesso andiamo a vedere invece i giornali perché ci sono diverse notizie importanti, le leggiamo come sempre dal carino del Corriere, partiamo dal carino di Pesaro, la fotonotizia per lo sport, il derby tra Fano e Vis, la firma dell'ex su Fano Vis, al Mancini di Fano, derby senza pubblico ma con molte emozioni, locali avanti con Ferrara, gli ospiti pareggiano con il centro avanti che è stato Beniamino Granata e quando ha segnato ovviamente, giustamente insomma, Gucci non ha esultato. Vaccini tocca la fascia 70-79 anni, da oggi a mezzogiorno scattano le prenotazioni, ecco come fare, intanto apre il nuovo centro al resto di Pesaro. Trovata morta la figlia di Carlo Urbani, il medico eroe, gli inquirenti sospettano l'overdose, intanto scendono i ricoverati in regione, sono dati che danno speranza. Dosi a domicilio, si va invece a rilento, guardia medica in campo, il bilancio per ora purtroppo è negativo. La domenica in zona rossa, zona mare affollata e qualche coda anche per i gelati, mentre la mortalità record e crollo delle nascite nelle Marche, siamo 17 mila persone in meno. VL pile cariche per tornare a sognare, stasera si gioca a Reggio Emilia, moto mondiale Vale e Luca, la prima volta è da dimenticare, il duello tra i fratelli nella MotoGP finisce con Rossi al dodicesimo posto e Marini addirittura al sedicesimo. La prima pagina del Carlino di Ancona invece muore 18 anni dopo papà Carlo. Carlo è Carlo Urbani, qui vedete con la moglie Giuliana insieme alla piccola Maddalena. Maddalena che era speciale, ha sofferto molto la mancanza del padre, dice il fratello Luca. Intanto Carlo fu lui a scoprire il primo virus polmonare che uccideva. Questa è la fotonotizia del Carlino di Ancona. Intanto il Corriere, il Corriere Adriatico, edizione di Pesero, Rimpianti Fano sorride la Vis, in Serie C il Derbissimo finisce a 1-1, Vaccini invece il secondo step, alle 8.30 entrano in funzione gli spazi dell'ex rischio, siamo dentro l'Iperconad, il grande centro commerciale di Pesero, prevista la somministrazione di Pfizer e Moderna, oggi al via le prenotazioni per il Siero invece per chi ha tra i 70 e i 79 anni sul sito delle poste oppure al consente, ma potete chiederlo anche di scrivervi al postino, quello che vi porta le lettere, potete chiedere di prenotare se avete dai 70 ai 79 anni, prenotare il vaccino. Sempre sulla prima pagina del Corriere Adriatico, in breve profilassi a domicilio, scendono in campo le guardie mediche, la grande incompiuta del bar agli orti giuli, degrado in efficienza, e poi a Fano accordo quadro, Tonelli replica, basta allarmismi, sotto invece gli affitti, a Urbino un anno nero ducale, ma c'è già chi prenota disdette a prezzi a ribasso, gli agenti immobiliari dicono iscrizioni in aumento, il Rettore è attento, c'è dunque fiducia, intanto la VL come dicevamo stasera in campo con Reggio, ma parliamo invece, e la rassegna stampa questa mattina, sabato l'abbiamo aperta dicendo che a giugno probabilmente si potrà andare in vacanza, l'estate sarà un'estate pressoché serena, senza grossi limitazioni, e questo ci ha in qualche modo tirato su un po' il morale. Oggi si parla invece di passaporto vaccinale, un passaporto che non sarà obbligatorio, ma che potrebbe anzi essere richiesto, per esempio dalle compagnie aeree, non è obbligatorio, nel caso in cui uno fosse sprovvisto di questo passaporto vaccinale, e quindi perché non ha fatto il vaccino, potrebbe essere richiesto invece il tampone. Andiamo a vedere questa notizia sulla pagina 3 del Carlino Nazionale, il titolo è Passaporto sanitario da giugno in Europa, così torneranno i viaggi e una vita normale, l'annuncio del commissario Bretton sarà il pass della salute, vedete ce lo presentano un po' così, il pass della salute, tutti belli allegri, con questo passaporto eccetera eccetera, in realtà sarà la più grande banca dati sanitaria del mondo, unica nella storia, ma comunque al di là di questo, servirà per spostarci tra i paesi, l'Unione Europea dice immunità di gregge, ce l'avremo a luglio. Allora vediamo che cos'è questo passaporto sanitario, poi faremo magari una considerazione in più che ci darà la possibilità di riflettere un po' meglio. Allora il passaporto è un documento cartaceo ma può essere anche digitale che dal 15 di luglio, anzi scusate dal 15 di giugno permetterà ai cittadini europei vaccinati contro il Covid di ricominciare a muoversi in sicurezza, per chi invece non è vaccinato farà fede il risultato dell'ultimo tampone. Abbiamo detto che non è obbligatorio, si potrà richiedere il documento per salire su un aereo, partecipare ad una manifestazione oppure entrare in luoghi pubblici, ma il passaporto sanitario, lo ripetiamo, non sarà obbligatorio. Una compagnia aerea, come dicevamo, potrebbe chiedervelo e se non lo avrete vi verrà chiesto di sottoporvi a un test, anche gli Stati Uniti lavorano ad un modello simile. Nel documento che cosa ci sarà scritto, il passaporto registrerà nome, data di nascita, se sei stato vaccinato, il tipo di vaccino che hai fatto, se sei stato portatore di malattia e se hai sviluppato anticorpi. Il primo paese al mondo a lanciare il passaporto vaccinale per attestare l'immunizzazione da Covid è stata la Cina, mentre un Green Pass è attivo anche in Israele e viene rilasciato dopo la seconda dose di vaccino, indispensabile per frequentare scuole, hotel, palestre e musei. Ora, la prima considerazione, proprio così banale, è uno, non sappiamo nemmeno quanto dura la copertura di un vaccino, per cui è un passaporto che davvero ha una scadenza con un punto interrogativo. Quanto farà fede? Boh, non lo sappiamo, perché magari uno va lì con il passaporto vaccinale, poi magari nel suo caso, siccome non ci sono evidenze scientifiche di nessun genere sulla durata della copertura, magari pensa di essere coperto, invece può benissimo infettare perché, ripeto, non si sa. La seconda cosa, queste persone vorrebbero soprattutto, c'è uno in particolare, il commissario Bretton vorrebbe, su spinta della Spagna, della Grecia, per far ripartire il turismo, vorrebbe che si partisse con questo passaporto, fosse operativo, da giugno. Ora, considerando che qui in Italia a giugno avremmo vaccinato sia no i settantenni, ma neanche, tutti gli altri sarebbero senza passaporto vaccinale, quindi o tutti a fare il tampone per andare in vacanza, il che non sarebbe neanche male, oppure davvero serve a poco. Secondo, però, comunque, messa così non è che sia entusiasmante, anche se ce la fanno passare come il pass della salute, ma direi di no. Anche perché, se andiamo a leggere la seconda pagina che ho selezionato per voi nell'arsegna di stamattina, ed è una notizia che arriva da Pesero, c'è chi il virus, proprio ufficialmente, l'ha preso e l'ha preso anche in modo serio per ben due volte. E tutto questo nel giro di pochi mesi, dieci mesi. Gianluca Murgia, questa mattina, scrive Prendere due volte il Covid è possibile, purtroppo. Come ha raccontato al Corriere Adriatico l'Avvocata e Consigliera Comunale Maria Rosa Conti, che vedete nella fotografia qua, primo vero caso di doppio contagio acclarato, con sintomi evidenti e tamponi positivi, è stato certificato e testimoniato nella nostra Regione. Maria Rosa Conti era risultata positiva il 9 marzo dell'anno scorso, il 9 marzo 2020, poi ripositiva, e di nuovo con sintomi prepotenti, un anno dopo, lo scorso 18 marzo, con tampone molecolare a certificarlo, lunedì 22. Ora, si è di fatto ammalata facendo una sorta di conteggio, circa dieci mesi dopo, un incubo per lei, un incubo per tutti, anche perché i casi di Covid, il Covid-Bis, sono nel nostro territorio almeno una ventina di casi. Ora, a certificare la possibilità o meno di ricontagiarsi, c'è anche uno studio condotto a Voe Uganeo, che è in Veneto, da Andrea Crisanti, che è un microbiologo dell'Università di Padova. 9-10 mesi, ecco quanto durerebbero, attenzione, ecco perché poi torna il discorso che mi da ricollegare al passaporto vaccinale. 9-10 mesi, ecco quanto durerebbero gli anticorpi prodotti dal coronavirus SARS-CoV-2 nelle persone che sono state positive o che sono negative, ma positive al test sierologico. Chiaramente rispetto al vaccino qui abbiamo più certezze, cioè mentre sul vaccino non sappiamo quanto tempo copre, anche se probabilmente chi lo ha fatto quest'anno dovrà rifarlo l'anno prossimo, come si fa con l'antinfluenzale, questa è la linea, in linea di massima. Però chi invece ha avuto il Covid potrebbe stare tranquillo per una decina di mesi, perché poi la possibilità di riprenderlo, come abbiamo visto, è certificata. Quindi c'è questa possibilità. Poi, sempre Gianluca Murgia, su questo articolo che vi invito a leggere sul Corriere Adriatico di questa mattina, saltiamo alcune cose altre interessanti, però c'è anche un altro fronte interessante per quanto fa venire anche qui, insomma, la pelle d'oca, come si dice. Allora, perché? Perché questo caso, questo caso di Maria Rosa Conti, apre un altro fronte. La concomitanza, intesa come correlazione quantomeno temporale e di vicinanza fisica, quindi tempo e fatto di essere vicini, del suo contagio è avvenuto dopo che il marito si era vaccinato con AstraZeneca, manifestando poi una frebbe molto alta per tre giorni. Ora, una decina di giorni dopo la vaccinazione, il Covid l'ha di nuovo aggredita. Potrebbe esserci un nesso di casualità? Ovvero, chi si vaccina in alcuni casi nei primi giorni potrebbe, ecco la domanda, sviluppare una carica virologica tale da contagiare chi è vicino? Questo apre scenari chiaramente inquietanti, tra virgolette, insomma, perché comunque, insomma, dovremmo stare lontani anche da chi, se fosse così, se fosse così dovremmo stare lontani anche da chi si è appena vaccinato, nel caso specifico AstraZeneca, perché potrebbe essere, rifacciamo la domanda, chi si vaccina in alcuni casi, nei primi giorni, potrebbe sviluppare una carica virologica tale da contagiare chi è vicino, così come è successo all'avvocato Rosa Conti, il marito si era vaccinato e lei, guarda caso, dopo qualche giorno si è preso il Covid. L'ha contagiato il marito? Punto di domanda. Allora, andiamo avanti con la rassegna, andiamo a vedere l'altra pagina invece, perché è interessante quest'altra notizia che c'è sui giornali questa mattina, porta la firma di Andrea Taffi, Corriere Adriatico, oggi partono le prenotazioni per il vaccino anti-Covid per la fascia d'età 70-79 anni, dunque dopo gli ottantenni, dopo le forze dell'ordine, dopo gli insegnanti, mentre già si stanno, fine settimana, a Muraglia, a Pesero, si sono vaccinati le persone, i soggetti un po' più fragili, e si va avanti anche in questo senso, adesso partono le prenotazioni per chi ha la fascia, chi è nella fascia tra 70 e 79 anni. Allora, tutti i nostri telespettatori, che sono tantissimi, che hanno tra i 70 e i 79 anni, che cosa possono fare per prenotarsi e per fare il vaccino? Allora, intanto attraverso il portale di poste italiane, quindi si va, magari vi fate aiutare, si va sul sito e ci si prenota lì. Oppure tramite questo numero verde, ecco, il numero verde, se avete carta e penna oppure un cellulare, fate la foto al televisore, 800-009966, sarà attivo da oggi fino a venerdì, dalle 9 alle ore 18. Quando siete al telefono, non fatevi trovare sprovvisti di dati personali, perché occorrerà avere un numero di tessera sanitaria, quindi il numero di tessera, il codice fiscale, e anche un numero di cellulare da comunicare. Non comunicate quello di parenti, amici o del vicino del barista, cioè datevi il vostro, quello che avete sempre voi a portata di mano, perché poi arrivano gli sms e non si leggono, oppure lo legge il vicino che lo cancella, eccetera, eccetera. Allora, tenete, date sempre un vostro numero di telefono. Oppure potete anche prenotarvi attraverso il portalettere, quello che vi porta le lettere a casa, magari gli fate la cosiddetta posta, e appena lo vedete gli chiedete di potervi prenotare per questo vaccino. Una volta avviata la prenotazione, una volta che vi siete prenotati, all'utente verrà immediatamente comunicato il giorno, quindi il giorno ve lo diranno subito. La sede, cioè dove dovrete andare a fare la puntura, e l'orario in cui vi dovrete presentare al punto di vaccinazione. Quindi dovrete, cioè saprete tutto nel momento della prenotazione, ok? Poi, il giorno in cui si andrà a fare la prima dose, vi sarà comunicato anche il giorno del richiamo. Boh, detto questo, allora, intervista pagina 3 invece del Corriere Adriatico, e questa mattina parla il Candela, Marco Candela, 62 anni, è il direttore dei reparti Covid 1 e 3 di Iesi, e direttore del Dipartimento di Medicina dell'Area Vasta 2, che risponde ad alcune domande, chiaramente, che riguardano gli anticorpi monoclonali, come vedete dal titolo. Le dosi, e questa è la buona notizia, saranno decuplicate nelle Marche, perché in prima battuta, qui ne sono arrivate, a livello regionale, circa 130 fiale, ma si parla di una nuova fornitura, che è una fornitura importante, perché 1.500 fiale, sempre disponibili per tutta la Regione Marche. Ora, la somministrazione, l'abbiamo già detto anche nelle altre rassegne stampa, però lo ricordiamo, questi anticorpi monoclonali, vengono somministrati in circa un'ora e mezzo, ed è una fiala per ogni, coinvolge una fiala per paziente. Poi qui spiega bene, insomma, spiega bene come avviene, quindi per chi soprattutto è possibile somministrare queste fiale, abbiamo già ricordato più volte che è importante, soprattutto possono fare questi anticorpi monoclonali chi sviluppa la malattia, ma nelle prime fasi, non dopo. Ecco perché, giustamente dice il medico, è bene interessare non solo le USCA, che arrivano già a casa quando il paziente magari ha già l'ossigeno, già si è un po' avanti e quindi è difficile poi poter intervenire con i monoclonali. E allora è importante invece interessare e spiegare bene ai medici di base come intervenire, come eventualmente chiedere di poter fare al paziente il monoclonale e quindi salvargli spesso anche la vita. Intanto sul sistema sanitario molto provato in tutta la Regione Marche, la domanda è il sistema regge, gli operatori no, ha detto un suo collega. E lui risponde, sì, si sta protraendo questo Covid di più rispetto allo scorso anno, nel 2020 furono due mesi e mezzo, qui invece stiamo lavorando da ottobre, medici e OSS non vanno in ferie da agosto scorso, io non sono uno di quelli che parla di stremo delle forze, però siamo provati, questo sì, e allo stesso decisi a fare del nostro dovere fino in fondo, chiaramente. Intanto nelle Marche abbiamo visto poco fa siamo 17 mila persone in meno. Nel 2020 il Covid ha fatto aumentare la mortalità del 15,4% e intanto continua il crollo delle nascite. Mai così tanti marchigiani morti negli ultimi dieci anni e mai così pochi nati. L'anno orribile si chiude con numeri davvero da dimenticare e uno in particolare che dice tutto. In Regione abbiamo perso 17 mila abitanti, compresi quelli che se ne sono andati all'estero, ben 40 mila rispetto al 2010. E quest'analisi la fa Daniela Barbaresi, che è il segretario generale della CGL, che appunto commenta questi dati. Intanto le altre notizie in breve, sempre dal Carlino Giuliano Dini, tra le tante vittime, era il 30 marzo del 2020, mentre more a 61 anni Michele Danna, anche lui vittima del virus 61 anni, un pesarese originario di Napoli, che era stato un bravissimo specialista tecnico-amministrativo presso Trenitalia, dopo aver svolto per anni alcuni lavori di macchinista ferroviaria. Il funerale si terrà domani, partendo dall'obitorio di Muraglia, alle 15.20 per il Duomo di Pesero, dove alle 15.30 sarà celebrata la messa. Poi un ricordo, il Carlino lo fa anche per il primario Ugolini. Un anno fa moriva Marcello Ugolini, conosciutissimo pneumologo, che per anni è stato una colonna dell'ospedale San Salvatore di Pesero. Il medico, 70 anni, è deceduto nel reparto di rinanimazione, dove era stato ricoverato per una polmonite interstiziale dovuta appunto al coronavirus. E adesso invece sulla pagina 4 del resto del Carlino, torniamo per un attimo a ripensare a quella vita di normalità che era fatta anche di concerti, incontri, sale, gremite per poter seguire qualche convegno, eccetera, eccetera. Bene, il titolo del Carlino su questo argomento è La nuova alba tra concerti e partite. Il mondo fa le prove di normalità. A Barcellona si sperimenta la musica senza distanziamento, mentre ad Amsterdam si studiano gli aerosol allo stadio. È un ritorno, se vogliamo, un po' lento, ma comunque si sta provando a far tornare la gente anche per gli spettacoli, per seguire lo sport, che sono stati tutti quanti abbandonati a causa del Covid. Dalla Spagna all'Olanda, però dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, dalla Germania al Messico fino al Giappone, si stanno cercando soluzioni per tornare a vedere il pubblico nei teatri e sulle tribune, anche perché i lavoratori dello spettacolo sono allo stremo, soprattutto in Italia. e qui in questo articolo si spiega un po' quello che si sta tentando di fare, degli esperimenti veri e propri, insomma. In Catalogna, per esempio, l'esperimento è riguardato la musica. Ad Amsterdam si è fatto questo esperimento sul calcio. 5.000 spettatori sono entrati all'arena, dove tra l'altro la capienza è di 55.000, quindi praticamente invisibili, ma per assistere alla partita di qualificazione dei mondiali 2022 del Qatar, fra Olanda e Lettonia. Si entrava con un'autocertificazione che assicurava di avere effettuato un test due giorni prima. Una volta nello stadio la gente è stata suddivisa in vari settori e con diverse modalità. Beh, potete immaginare in uno stadio che ne tiene 55.000, 5.000 persone, caro mio, hai voglia di stanziare. Mentre, ecco, la pagina 3 del resto del calcio di questa mattina e qui ci facciamo serie anche tristi, perché la notizia è quella che rattrista, certamente. È morta la figlia di Carlo Urbani su Maddalena, l'ombra della droga, 18 anni fa, la scomparsa di Carlo, dell'eroe. La polizia ha arrestato un siriano, sarebbe stato lui a cederle la dose fatale, proprio domani la ricorrenza per l'uomo che diede la vita per la SARS. Alessandro Di Marco parla di un destino cinico e spietato che ha voluto che Maddalena se ne andasse appena due giorni prima della ricorrenza dei 18 anni della morte del papà eroe, Carlo Urbani. E ha voluto che si riabbracceranno in cielo lo studioso e la figlia minore che assieme al padre è potuta rimanere pochissimo, non aveva ancora compiuto due anni quando il 29 marzo 2003 Carlo, l'uomo, rimase vittima della SARS mentre si trovava a Bangkok per effettuare una serie di studi e approfondimenti su quella stessa epidemia. E qui avete ecco la fotografia di Maddalena oggi e invece qui la fotografia di Maddalena in braccio al suo papà e alla sua mamma. Si ligate, siamo sulla cronaca di Pesero, Ricci contro il comitato e polemica il primo cittadino accusa i residenti di aver fatto saltare l'investimento di Anas sulla sicurezza Radaelli dice atteggiamento deplorevole mentre il piazzale della provincia verrà intitolato a Rosaspina Vito Rosaspina è un uomo che ha fatto tanto per il territorio. Da Urbino a Fitti invece Urbino città studentesca mesi di disdette e ribassi calo di presenze in città ma agenti immobiliari ducali fiduciosi per settembre anche grazie alle parole del rettore iscrizioni in aumento voglia di ritornare qui alcuni genitori hanno già fermato le abitazioni dunque Calcagnini dice attento e si spera in una ripresa. Da Senigallia assalto al lungomare folle multe Olivetti il sindaco manda i vigili così non va pista cicabile piena scontro tra bici elettriche e un tandem presidi e sanzioni anche dei carabinieri intanto ancora vegetazione in fiamme torna l'allarme sul fiume Cesano dopo il rogo doloso nel Canneto altro incendio in via delle Cone mentre vaccinazioni nella palestra dei vigili del fuoco l'accordo è stato raggiunto ma la protezione civile serve dice uno spazio più ampio droga sul tappetino siamo sempre a Senigallia in auto fermati due giovani che hanno provato di sfarsi della cocaina nulla da fare segnalati e multati per il coprifuoco intanto lo sport con Gucci che toglie il sorriso Alfano è nella storia il derby numero 102 finisce pari uno a uno la vis tiene a distanza Granata e l'attaccante diventa il primo ad aver segnato su entrambe le sponde Gucci ex Granata spalti vuoti terrazzi mezzi pieni e lo speaker al gol di Ferrara lancia le tonsille in campo la cronaca di questa giornata calcistica un po' particolare siamo vivi crediamoci non dimentichiamoci che sulla panchina ieri ha fatto il suo esordio mister Tacchinardi dobbiamo crescere come personalità dice sono contento a metà comunque la squadra non molle darà tutto per ottenere la salvezza ma c'era anche un derby ieri alle 18 subito dopo quello calcistico di pallavolo la Vigilar che a macerata ha affrontato la Mad Store e che però ha perso 3 a 2 Mad Store vince 3 a 2 contro la Vigilar i fanesi dunque perdono rimangono quinti ma insomma alla fine vanno tutte e due playoff macerata invece conferma il terzo posto due ore di vero spettacolo intanto la battaglia è stata intensa poi sul più bello il meccanismo dei fanesi si inceppa si guarda ai playoff l'11 aprile a Brugherio per quanto riguarda appunto la Vigilar che perde il derby ma esce a testa alta noi ci fermiamo qui ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia e poi chiedo a Riccardo il regista di venirmi in aiuto per la prima serata primo cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri allora una bella serata arrivederci